Alessandro Zanni, una carriera da invidiaria, 119 cap secola nazionale, secondo azzurro di sempre insieme a Castrogiovanni, quattro mondiali giocati, una bellissima carriera tra Calvisano e Treviso, grande sostenitore del museo, un grande amico, non a caso ha lasciato al museo la maglia della famosa partita che abbiamo pareggiato con gli All Black al Mondiale 2019, spettacolare, e la maglia molto bella del Sudafrica che lui ha scambiato, una bellissima particolarità, il Sudafrica prima del Mondiale ha fatto registrare sul sito tutti i suoi tifosi per poi metterli nei numeri della maglia, quindi ogni maglia del Mondiale del Sudafrica esclusa la finale porta i volti dei loro tifosi. Chiaramente la maglia del Mondiale del 2019, mentre la maglia alle spalle di Alessandro è quella che lui ha indossato giocando contro l'Inghilterra. Perché è particolare? Perché abbiamo una promessa con Alessandro. Dato che ho avuto dalla mamma di Johnny Wilkins una sua seconda maglia, scambieremo questa maglia lucidiana per averla dalla sua collezione con le migliori maglie della sua carriera. E quindi a presto farò un'incursione a casa di Alessandro per fare questo scambio.